106 volte grazie. Con questo striscione i tifosi della Roma hanno salutato Roberto Pruzzo, il bomber per antonomasia, nel giorno della sua ultima partita con la maglia giallorossa. Sono 106 infatti i gol segnati in campionato da O'Rei di Crocefieschi, nel corso delle sue 10 stagioni passate in giallorosso. Eccezionale rapinatore delle aree di rigore, aveva nel colpo di testa la sua specialità. Secondo marcatore della storia romanista dopo Francesco Totti, Pruzzo detiene ancora un record importante. È l'unico attaccante della Roma ad aver vinto per tre volte il titolo di capocannoniere. Credo sia stato uno dei più grandi centramenti che ho avuto da Roma. Poi è il bomber. Questo è importante, sai, perché quando tu entri nel cuore dei tifosi, nella piccola o grande mitologia di una città sportiva, di una società sportiva, eccetera, vuol dire che hai dei doti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.